Noi siamo arrivati alla televisione senza ovviamente snobbare il mezzo televisivo, per forza, siamo arrivati alla televisione perché comunque la nostra idea, noi facevamo cortometraggi, facevamo altre cose e avevamo bisogno di trovare denaro, eccetera. All'inizio lavoravamo per una televisione privata, proprio facevamo una sorta di scambio, loro ci davano la possibilità, TVM a Palermo, ci davano la possibilità di poterci montare i cortometraggi, i lavori che... e noi invece facevamo, come dire, delle cose per la televisione, dei programmi di jazz, facevamo una sorta di fuori orario locale, eccetera. Quindi Cinico TV era, come dire, da un lato sicuramente destinato alla televisione, come poi diceva il titolo stesso di queste serie, però con appunto l'uso del bianco e nero a tutta una serie di altre cose, sicuramente con un'idea estetica, con anche una libertà che poi è stata possibile grazie a quel periodo di Ray 3, con una libertà che era appunto... che andava al di là degli standard dell'estetica televisiva. Quindi in questo senso Cinico TV comunque per noi è stato anche un modo di anticipare poi il cinema che avremmo fatto. Sicuramente, infatti, in Cinico TV c'è un grande desiderio, a parte dal punto di vista dello stile che poi portiamo nello zoo di Brooklyn e in Totò, è un grande desiderio di fare della televisione, anche il cinema, presentare una televisione con piani sequenza, con immagini fisse, con personaggi che fanno la televisione in mezzo alle macerie, quindi presentare qualcosa anche fotograficamente, colpivano perché erano diversi, assolutamente diversi da quel periodo della televisione dove tutto era veloce, tutto è come adesso acceleriamo ancora di più, però in quel periodo ancora si tendeva a fare un po' la televisione e il realismo, quindi il periodo di Guglielmi. Quindi cercavamo di prepararci, come dicevo poco fa, al cinema, ma senza portare poi Cinico TV al cinema, diciamo che era l'aspetto più estetico, il discorso fotografico, il discorso dei tempi, il discorso del teatro anche, perché nei nostri film c'è spesso la macchina che non stacca mai, la scena è completa, è un piano sequenza, con attori peraltro non professionisti, quindi cercare di catturare il più possibile da sequenze senza tagli, quindi senza la velocità o il fatto di muovere la macchina a tutti i costi. La comicità è sempre tragica, quindi la comicità per noi era Keaton, era Tati, erano altri maestri, la comicità nella letteratura è la comicità di Pirandello, la comicità tragica, è il senso per restare a Pirandello del contrario, quindi è il comico, è il grottesco, non ha nulla a che fare con la satira, la pseudosatira, quella ormai da animatore, da villaggio turistico. Quindi quando noi parliamo di comicità seria ci riferiamo alla grande tradizione comica che è quella del cinema, che va dai fratelli Marx, se volete, ad altri grandi maestri del cinema, nella letteratura ci sono esempi che non finiscono, ecco, in questo senso la comicità è un modo, è uno sguardo sulla vita, sul mondo, sugli esseri umani ed è cogliere la tragedia del vivere, quindi è un'altra cosa che non ha nulla a che fare con la battuta, con… Anche, vorrei citare anche i cartoni animati della Warner Bros, per esempio, erano, in animati… Ecco, ma è la comicità che esiste non solo in Pirandello, la comicità che c'è in Beckett, la comicità che c'è perfino in Dostoievski, in Kafka, ecco, dico c'è, non ha nulla… per me è questo il senso della comicità, quindi in questo senso la comicità è una cosa estremamente seria che richiede una conoscenza e una… e diciamo anche una vocazione, una coerenza, tra l'altro, estrema. L'idea di Cinico TV, quando tu poi hai parlato di piccola rivoluzione, era proprio questa, qual è la differenza di televisione, l'idea televisiva, l'idea di televisione è anche… non solo estetica, ma era il fatto che per la prima volta alla televisione proponeva un'idea di Sud, fatta da milionari, da siciliani in questo caso e da attori ovviamente complici, un'idea assolutamente inedita, perché non era l'idea di Sud che veniva, che so, dalla Sicilia dei cliché alla Lando Buzanca o, se vuoi, peggio ancora, il Sud raccontato da Renzo Arbore con la sua banda, con i suoi personaggi, era un Sud autentico, quindi fatto di corpi deformi, di corpi che puzzolenti, si sentiva l'Olezzo attraverso lo schermo, ma era quindi un problema che non riguardava noi, era un problema che riguardava quegli italiani, quelli sono degli anni che precedono Mani Pulite, quindi la Milano da bere, un'Italia che si avvia a un consumismo sempre più mascalzone e criminale, e di Truffaldini e di Berlusconiani, eccetera, eccetera, quindi quella Italia lì era un'Italia alla quale noi sottoponevamo, proponevamo questo Sud, con i corpi fermi che stavano lì a petare, a fare i rutti, eccetera, ed era perfetto quello, 8 e un quarto, al posto di Chiambretti, prima c'era Chiambretti e dopo arrivavamo noi, quindi il problema del corpo, dell'erutto, i tempi che ovviamente erano dilatati, questi corpi che stavano a guardare queste facce, questi volti che guardavano l'obiettivo, guardavano questa Italia, insomma era come dire, forse ingenuamente, volere provocare disagio, volere far parlare realmente, quindi in questo senso condivido questa sua definizione, era un modo, è stato un modo sempre di mettere, di provare a mettere in crisi un'altra, in quel caso, un'altra Italia, un'altra umanità, assolutamente. Noi eravamo l'equivalente del frate, com'era, del frate trappista che bussava, ricordati fratello che devi morire, siccome c'era questa cosa, a un certo punto uno proponeva una forma così tumorale, una gobba, proponeva una deformità, visto che c'è una rimozione così. Io credo che questo sia stato forse il grande contributo che poi noi abbiamo portato, quando tu parli, ripeto ancora, di picco a rivoluzione, sicuramente forse Cineco TV è stata l'ultima rivoluzione all'interno della televisione possibile, credo che dopodiché, insomma, il vuoto. In un paese che vede prevalere in televisione Maria De Filippi, in un paese che vede prevalere in cui la maggior parte, immagino, se questa fa un milione di ascolti, in cui c'è un paese che va a confessarsi, a sputtanarsi, a non avere pudore, a raccontare la propria vita intima, la propria vita personale. Un paese in cui c'è i ragazzi che hanno la De Filippi come punto di riferimento. Cosa vuoi aspettarti? Un paese che ha il pomeriggio, questa Italia che si ammazza, che si scanna, che non ha il rispetto di se stessa. Ecco, non è possibile che in questo paese, e la grande riflessione negativa è il fatto che il cinema non abbia la forza, che la letteratura, che l'arte, gli intellettuali non abbiano la forza morale di sottarsi a tutto questo e quindi di fare critica veramente. Forse non c'è più la possibilità, tu hai intellettuali, artisti che invece politici di sinistra, che da mascalzoni invece cercano di essere ospitati nel Maurizio Costanzo. Non c'è gente che ha mai detto, a sinistra, gente che si è sottratta, che riconoscendo la responsabilità morale di mascalzone, di questa gente, di mascalzoni così, non si è andata. Perché se non vai in televisione non vivi, quindi questa gente non ha la capacità di, ripeto, sottrarsi, di, con un'assenza, con un non partecipo, con un non vengo criticare, quindi non esiste. Quindi da questo paese e in questo paese non ci si può aspettare più assolutamente nulla. Sciascia parla di terra, di Sicilia irredimibile, ma è vero che c'è un'Italia irredimibile, dobbiamo stare attenti a questo. Enzo Castagna per esempio rappresentava per noi il piccolo mafioso, rappresentava, secondo alcuni, il piccolo pesce rispetto a quello che in realtà noi abbiamo voluto smascherare in tutti questi anni, è stata l'ipocrisia di una certa Palermo, la Palermo a cavallo tra gli anni 80 e 90, quando, sempre citando lo stesso Sciascia, c'erano i professionisti dell'antimafia. Era facile prendersela con Castagna, che sono per un accuso di voto di scambio, lì siamo proprio nella farsa. In realtà in quegli anni a Palermo in Sicilia c'erano personaggi che facevano parte dell'antimafia, che facevano parte, che erano dei riciclati, che venivano da storie per lo meno ambigue e che grazie alle ospitate di Maurizio Costanzo o in altri posti, insomma si erano fatti portabandiera, portavoce dell'antimafia eccetera. Allora a noi interessa questo, cioè questa la Sicilia inredimibile, la Sicilia dei trasformisti, l'Italia dei trasformisti, l'Italia cinica che finge di essere solidale, l'Italia che poi alla fine ha fatto sì che arrivasse al governo gente come Berlusconi, come Fini e come Bossi, questa è la realtà, cioè un'Italia sottosviluppata culturalmente, un'Italia di gente che ha come unico interesse il denaro e non importa come questo denaro lo si fa. La mafia, i gangster, ci ha attinto a pieni mani, a pieni mani il cinema americano, non solo, cioè i mafiosi e la mafia e tutto quello che ovviamente è un grande serbatoio. Pensiamo agli italiani, agli sciacalli italiani, se non ci fosse la mafia, che cosa, chi avrebbe fatto? I cento passi, che avrebbe fatto? Ringraziando il cielo, padre Puglisi, tu pensa tutta questa gente, Borsellino, Falcone, tu pensa se non ci fossero stati questi poveri disgraziati, se non ci fossero state queste tragedie, di che cosa vivrebbe oggi il cinema? Invece per fortuna abbiamo degli sciacalli che arrivano, si trasferiscono a Palermo, fanno un film su padre Puglisi, sciacallano, ritornano a Roma, montano sciacallando e dopodiché hai una critica in ginocchio o una critica che dice che è schifo perché di questo si tratta, che però non riesce a sottrarsi al ricatto e quindi poi dice bel film. La cinefilia che si può ritrovare nel nostro cinema ha semmai un altro senso, se vuoi anche più necrofilo, se vuoi anche più malinconico e in questo senso è anche una riflessione sul cinema, una riflessione negativa, quindi sulla impossibilità, per noi quel cinema che citiamo è definitivamente finito, esaurito, morto, quindi c'è questa malinconia, c'è questo a volte congedo, non c'è più spazio per un cinema antropocentrico, per un cinema antropologico, per un cinema che racconti per dirla storie, c'è un cinema che per ragioni industriali, per ragioni commerciali, economiche, tecnologiche, tutto quello che volete. Diciamo che l'ammirazione che noi abbiamo per Pasolini, per quello che mi riguarda più che per lo scrittore, è un po' l'ammirazione per una parte del lavoro cinematografico di Pasolini o se vuoi poi per il ruolo del polemista, dell'intellettuale che è stato secondo me unico e importantissimo. In questo senso Salò, l'ultimo film di Pasolini, è sicuramente un film estremo, forse il film più estremo, uno dei film più estremi in assoluto del cinema, in questo senso è lì che comunque parte, da lì parte poi un po' per noi partono Cipria e Maresco, nel senso che realmente penso che un regista, penso che qualunque artista debba avere una visione del mondo e questa visione del mondo debba proporla, debba essere una visione che produce crisi, che produce dubbi e sicuramente il nostro pessimismo, a parte il fatto che vorrei vedere chi può proporre una visione oggi più ottimista delle cose, se basta guardarsi attorno. Credo sì che il pessimismo pasoliniano sia un precedente del nostro lavoro, del nostro modo di guardare la vita. Che cosa ci si può aspettare da un paese che ormai da vent'anni si nutre di estetica berlusconiana? Cosa ci si può aspettare da un mondo che ormai, in questo caso l'Italia, vedete verso gli occhi dell'ideologia berlusconiana, quindi significa i corpi, no, alle riunioni, ai congressi di Forza Italia ci sono tutti belli, tutti biondi, tutti perfetti, quindi sembrano tutti clonati. È chiaro che questo è un paese che non ha nessuna forza morale, non ha nessuna capacità di reagire, non ha nessuna forza né ideologica né di altro genere, quindi è un paese ormai soccombente, completamente. Ho uscito sempre un film, che è un film di Don Siegel, che è l'invasione degli ultracorpi, dove tutti erano uguali, simili. Ecco, quella è la tendenza che si stava in Italia, dove si stia un'omologazione totale, globale. A noi è sempre piaciuto lavorare sul collasso delle cose, e questa se vuoi è una visione, come dire, un po' la nostra filosofia, nel senso che il mondo va a precipitare, le cose sono caos, le cose vanno… e in questo c'è ovviamente anche l'ironia rispetto poi a chi è preciso, meticoloso, in questo siamo anti-icicocchiani, ha un'ammirazione infinita per Icicoc, per la sua precisione da ingegnere, ma è chiaro, siamo ovviamente mondi totalmente opposti. Invece a noi è sempre piaciuto, come dire, metterci in discussione, metterci a rischiare. E in questo senso, per esempio, l'idea della crisi, delle cose che collassano, il discorso che collassa, l'azione che collassa, questo riteniamo che sia forse l'ultima forma anche lì di comicità possibile. Bisognerebbe tacere, silenzio, silenzio, silenzio. Tu ci chiedi cosa noi pensiamo, diciamo, cosa possiamo dire, banalità, stupidaggini. Poi tra l'altro non siamo manco narcisi, quindi non ci piace ascoltarci, poi magari rivedremo e ci farà pure schifo, quindi non si possono dire solo stupidaggini.